Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutto ragazzini questo nuovo video vi spiego come impostare così la compatibilità G-Sync con il tuo monitor quindi in questo caso non tutti hanno la possibilità di attivare così questa modalità però per quelle che la tengono e non sanno come attivarla è possibile farlo tutto tramite il pannello di controllo di Nvidia quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare Nvidia Control Panel quindi vai così a scaricare il pannello di controllo di Nvidia poi ti uscirà qua sotto fai tasto destro sopra pannello di controllo Nvidia una volta entrati sul pannello vai direttamente su imposta G-Sync e qui c'è scritto abilità e G-Sync compatibilità G-Sync abilità per la modalità schermo intero e basta una volta fatto vai qua sotto e fai applica invece per quelli che hanno sempre Nvidia c'è anche l'altra applicazione Nvidia App sempre in descrizione per scaricare la beta è facilissimo da scaricare quindi clicchiamo sopra ed eccola qua Nvidia App oppure puoi usare GeForce Experience se vai direttamente su grafica per esempio puoi impostare G-Sync su impostazioni globali qua tecnologia monitor compatibilità G-Sync impostazioni programma puoi scegliere qualsiasi gioco ad esempio prendo Counter Strike vado sotto impostazioni driver tecnologia monitor compatibilità G-Sync lo puoi impostare anche qua per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video fammelo sapere se hai attivato così la tua compatibilità G-Sync cercherò di realizzare altre guide a riguardo quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao